La FIGC ha deciso, l'Aquila Calcio ripartirà dalla prima categoria. Il commissario della FIGC, Roberto Fabricini, ha comunicato alla società e al presidente Ortolano l'ammissione appunto dell'Aquila Calcio in prima categoria. Alla luce della posizione espressa dal comitato regionale, si legge nella nota di Fabricini, nulla osta da parte della federazione che la SD città di L'Aquila possa essere iscritta in via straordinaria al campionato regionale di prima categoria. I rosso-blu saranno inseriti nel girone A, che raggruppa tutte le squadre della provincia dell'Aquila. E mentre c'è una squadra da costruire, ma si sta già lavorando da tempo e Mr. Cappellacci ha già iniziato la sua preparazione, si attende anche che la proprietà illustri i suoi programmi, perché al momento l'ingegner Pensi non si è mai visto e l'unico a parlare è il presidente in pector e l'avvocato aquilano Marco De Paulis. Questo ovviamente anche per capire le ambizioni di questa società e i progetti a medio e lungo termine. La campagna di testeramento iniziata intanto dai tifosi, a prescindere dalla categoria, ha dato ottime adesioni e questo è un segnale e un dato di fatto. Ora bisognerà capire progetti e situazioni.